Il sindaco di Sassari, Giuseppe Magia, interviene per i lavori dell'ex hotel Turritania, a servizio di Emanuele Floris. Il centro storico come fulcro dell'azione amministrativa del sindaco Giuseppe Magia, a partire dall'ex hotel Turritania i cui lavori procedono con regolarità. Siamo anche avanti di circa tre mesi rispetto al cronoprogramma, quindi l'ipotesi di consegnare l'opera tra 450 giorni e quindi nel 2025 è un'ipotesi che possiamo tranquillamente sostenere. E l'housing sociale è una delle componenti sostanziali dell'intervento sulla struttura realizzata in Porta Sant'Antonio nel 1942 per offrire, secondo le modalità dettate dalla legge, l'accesso a una casa a chi non se lo può permettere. È una modalità che noi utilizzeremo per fare operazioni di rigenerazione urbana, sociale e culturale all'interno del nostro centro storico e non solo perché tutta la città ha bisogno di azioni di questo tipo. Intanto alcuni controlli effettuati di recente dalla Polizia Locale a Sassa-Rivecchia sono conseguenza di una precisa direttiva istituzionale. È un'azione che noi abbiamo messo in atto in maniera precisa. Naturalmente ci rivolgiamo ad azioni circostanziate laddove noi abbiamo segnalazione, esposti o dove sappiamo che dobbiamo intervenire per il ripristino innanzitutto del quieto vivere e di una città che possa essere vissuta in modo sereno e nel rispetto delle regole.